La protesta per l'aumento del metano da autotrazione è legittima ma non va indirizzata a Estra e nemmeno al Comune di Arezzo. È il presidente di Estra, Francesco Macria, di intervenire sull'argomento. Estra, precisa, ha applicato nei confronti dei distributori l'aumento derivante dall'impennata non a livello nazionale ma europeo e mondiale del prezzo del metano. Sono incrementi generalizzati in Europa e non certo concentrati in una sola città. L'improvviso aumento del costo sta creando problemi non solo agli automobilisti e ai cittadini ma anche alle imprese. Ci sono evidenti motivi geopolitici internazionali e manovre speculative allo stesso livello che stanno determinando questi aumenti. La svolta, prosegue il presidente di Estra, sarebbe quella di abbandonare le ottuse impostazioni ideologiche che da decenni impediscono di realizzare rigassificatori che consentirebbero di importare con rotte navali GNL a prezzi molto più competitivi e soprattutto di iniziare davvero una produzione nazionale di gas verde. Dinanzi a queste necessità, conclude Macri e a queste impostazioni, la Toscana e l'Italia sono ferme al palo. Se poi vogliamo parlare di dimensione locale, vorrei ricordare che Arezzo dopo anni finalmente realizzerà con Asia Impianti un biodigestore che potrà produrre metano green da destinare alle auto o al trasporto pubblico a prezzi sicuramente più competitivi di quelli di mercato.